Grazie, buonasera a tutti e a tutte. A me è stato chiesto in realtà un intervento flash, però credo doveroso, che sta bene in una serata che è dedicata ai diritti, alla tutela dei diritti, per ricordare un anniversario importante. Effettivamente sono passati 30 anni dalla legge di approvazione della intesa stipulata dalla tavola valdese in rappresentanza delle chiese metodiste valdesi in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione, del terzo comma dell'articolo 8 della Costituzione, la prima intesa che è stata stipulata in attuazione del terzo comma dell'articolo 8 della Costituzione. E quindi sono passati 30 anni, ma ce ne erano voluti 36, perché dopo l'approvazione della Costituzione repubblicana, questa importante norma costituzionale potesse per la prima volta trovare applicazione. Norma importante, perché in realtà il terzo comma dell'articolo 8 della Costituzione è quello appunto che prevede che i rapporti fra le confessioni religiose diverse dalla cattolica e lo Stato siano disciplinati dalla legge sulla base di intese con le rispettive rappresentanze, con le relative rappresentanze, rappresenta una norma molto coerente con un progetto di democrazia, quello che emerge dalla nostra Costituzione repubblicana, che attribuisce un ruolo centrale al pluralismo delle formazioni sociali in cui, come dicono altre norme della Costituzione, si svolge la personalità dei singoli, degli individui, quindi attribuisce un ruolo importante. E nel caso dell'esercizio della libertà religiosa è abbastanza facile comprendere come molti anche dei diritti individuali, non solo delle confessioni religiose nella loro dimensione collettiva, globale, ma proprio dei diritti individuali passino attraverso un trattamento adeguato delle confessioni religiose in cui il singolo è inserito, perché la fede ha una espressione in una dimensione comunitaria che è assolutamente essenziale, quindi moltissimi dei diritti dei singoli, prima ancora che delle confessioni religiose, passano attraverso un adeguato trattamento della confessione religiosa, quindi dell'espressione della fede appunto nella sua dimensione comunitaria. 36 anni perché? La battaglia per delle chiese evangeliche, non soltanto di quelle che arrivarono per prime, quindi le chiese valdesi e metodiste, ma delle molte altre chiese evangeliche, in particolare all'interno di quello che era un tempo il Consiglio federale, che raccoglieva la rappresentanza di molte chiese del protestantesimo storico e di molte altre chiese evangeliche per l'attuazione appunto di questa previsione della nostra Costituzione, quindi per la stipula delle intese, cominciò subito dopo l'approvazione della Costituzione, inizialmente con una grande passione e veramente una situazione di necessità, perché, alcuni lo sapranno, per moltissimo tempo fino a che la Corte Costituzionale non cominciò a lavorare e a fare pulizia della parte più repressiva delle norme, della legislazione sui culti ammessi, continuarono a trovare applicazione, ritenendo che alcune norme costituzionali avessero una natura puramente programmatica, non precettiva. Ecco, il pericolo è sempre questo, che la nostra bella Costituzione in alcune parti venga ritenuta un bel programma, che però perché possa essere attuata richiede qualcos'altro. E quindi vi era l'esigenza di dare attuazione alle intese per potersi sottrarre finalmente a questa legislazione fascista, sui culti ammessi, che era assolutamente incompatibile con i principi della nostra Costituzione. E dopo le prime sentenze della Corte Costituzionale, diciamo che per qualcuno l'urgenza cominciò ad affievolirsi. Quindi nacque un dibattito in ordine alla effettiva necessità di continuare questa battaglia molto faticosa, perché non era facile condurre lo Stato, il Governo, a convincersi dell'opportunità di sedersi a un tavolo su un piano di parità, perché questa era la richiesta che le chiese evangeliche facevano, per comprendere le specificità, per capire quale poteva essere il contenuto di questa intese, per capire cosa fossero queste intese, mettendosi di fronte a una norma che per l'appunto, per la prima volta trovava attuazione e che era variamente interpretata, a volte in modo molto restrittivo da esperti costituzionalisti. Quindi si affievolì un po' l'interesse, si ritenne che in un clima complessivamente più rispettoso non ci fosse più questa necessità, e invece la Chiesa Valdese, prima le Chiese Valdesi e Metodiste insieme poi, continuarono a ritenere che questa battaglia fosse essenziale. Credo che in questa volontà di continuare la battaglia si sia manifestata subito un tratti caratteristici del nostro modo di intendere il modo di stare di fronte allo Stato. Una battaglia che va fatta non solo per sé, ma va fatta in generale, va fatta per tutti, per i diritti di tutti e per aiutare complessivamente l'evoluzione, lo sviluppo della società, del paese in cui si vive, in una chiave più rispettosa dei diritti di tutti. Perché era fondamentale questa battaglia, continuare questa battaglia? Non soltanto per sottrarsi appunto alle parti rimanenti della legislazione su culti ammessi, ma per dare attuazione a una norma costituzionale. È importante che tutte le norme costituzionali trovino piena attuazione. Quindi aprire la strada, provare ad aprire la strada, nella speranza che questo potesse aiutare poi anche altri, e questo effettivamente è avvenuto almeno in una stagione, in maniera abbastanza continua, ad ottenere lo stesso risultato. Quindi ricordare a tutti che quella norma non era programmatica, era una norma che richiedeva di essere attuata. Quale altra motivazione fondamentale? Provare ad offrire un modello alternativo rispetto al modello concordatario, che era l'unico conosciuto fino a quel momento, di relazione fra lo Stato e le confessioni religiose, nell'ambito del quale si voleva affermare fortemente l'idea che non si reclamavano privilegi, che non si richiedevano dei vantaggi, si chiedeva soltanto una normativa che garantisse il rispetto di alcune specificità che incidono fortemente sulla misura e sulla qualità dell'esercizio effettivo della libertà religiosa. è un principio fondamentale, quello per il quale quando vi sono delle situazioni diverse, a volte trattarle in modo uguale di fatto discrimina. Quindi aiutare l'eguaglianza sostanziale anche delle confessioni religiose tenendo conto di alcune specificità. Offrire allo Stato la possibilità di confrontarsi e quindi di conoscere veramente, da vicino, non il quacervo degli indistinti. Tutte le confessioni religiose diverse dalla cattolica erano considerate, espressione felicemente utilizzata, un quacervo degli indistinti, appunto identificate perché diverse dalla cattolica. Ecco, la trattativa per un'intesa significava farsi conoscere. Io non sono un indistinto, non sono un uguale agli altri, non sono soltanto uno che non è cattolico, ma sono quello che ti spiego, ti faccio capire quali sono le mie motivazioni, ti faccio capire il mio modo di intendere, il mio stare all'interno del paese, la necessità dell'esercizio delle libertà fondamentali, quindi offrire una possibilità di un pluralismo visibile che è fondato appunto sulla realtà specifica di una confessione religiosa che si presenta per quello che è e chiede di essere riconosciuta per quello che è nelle proprie specificità. Quindi diciamo che questa battaglia fu condotta fin dall'inizio con un forte senso del suo contenuto di testimonianza, cioè si voleva utilizzare questa occasione per far conoscere delle cose che non erano mai state conosciute, per far emergere dei contenuti, delle modalità di relazione diverse da quelle che gli italiani normalmente conoscevano e che lo Stato conosceva. E anche con un forte senso di responsabilità, perché fare per la prima volta una cosa, rappresentando un precedente quindi, può essere anche pericoloso, se si riuscire, come credo che alla fine si sia riusciti, ad ottenere la migliore interpretazione dell'articolo 8 della Costituzione, quindi contribuire veramente a una evoluzione positiva del dibattito generale su cosa fossero le confessioni religiose, la loro natura, i loro diritti, i loro rapporti con lo Stato, è stato faticoso, questo ha determinato la lentezza del processo, perché su ogni tappa si è voluto ottenere il massimo, il massimo possibile, ottenere appunto commissioni bilaterali, ottenere una trattativa complessivamente paritaria, ottenere la possibilità di inserire delle dichiarazioni importanti che facessero capire appunto come si intende il rapporto con lo Stato e la presenza di una confessione religiosa all'interno di uno Stato che si vuole laico, quindi tutto questo ha determinato un'occasione molto forte, un forte esercizio di responsabilità. Ricordiamo, questa è un'altra caratteristica che credo le chiese valdesi e metodiste hanno nel loro modo di, in generale, di vivere la chiesa e di vivere poi conseguentemente gli effetti delle loro decisioni, che ci fu in realtà un dibattito anche interno molto forte rispetto alla opportunità di chiedere la stipula di un'intesa, perché all'interno delle nostre chiese era molto forte l'idea della necessità di adottare una politica puramente separatista rispetto ai rapporti con lo Stato, per cui l'idea di un patto con lo Stato, di un concordato, di un'intesa che comunque introduceva una normativa specifica, non era da tutti considerata opportuna. Ecco, naturalmente altri evidenziavano come in un paese come l'Italia, che ha un radicamento molto limitato della cultura liberale, applicare un puro separatismo poteva essere una cosa in realtà abbastanza rischiosa e controproducente. Ci fu una dialettica interna molto intensa, come noi spesso conosciamo, in cui ci fu un forte senso dei rischi che si correvano anche compiendo questa scelta. Questo ci capita, nei nostri sinodi ci capita spesso, di avere una dialettica interna intensa in cui si avverte, si ha la consapevolezza dei rischi che si compiono a compiere delle scelte. Con l'otto per mille credo che abbiamo fatto una scelta, peraltro alla seconda occasione, di questo tipo, con una dialettica interna molto intensa, una forte consapevolezza dei rischi. Questo in genere produce, nel nostro modo poi di attuare e di vivere le conseguenze delle scelte che abbiamo fatto, un forte discernimento, una forte attenzione a rispettare i criteri che ci siamo dati, che spesso sono frutti di compromessi in senso positivo, in senso nobile, che raggiungiamo all'interno dei nostri sinodi, e di rispettare i limiti che ci siamo dati. Ecco, questo è avvenuto con l'attuazione delle intese, quindi siamo stati molto attenti ai contenuti che si esprimevano, così come è avvenuto, credo, poi nel modo in cui abbiamo dato esecuzione a questa difficile decisione assunta rispetto all'accesso al sistema dell'otto per mille. Ecco, altre due parole soltanto per ricordare quanto l'intesa probabilmente stipulata, la prima intesa non era perfetta, ha rappresentato però veramente un'apripista. Il contenuto essenziale della prima intesa è stato riprodotto in molte delle intese che poi successivamente sono state stipulate con altre confessioni religiose, che su altri aspetti invece magari sono state anche migliorative. C'è stata la possibilità di introdurre delle altre norme, però alcune delle dichiarazioni fondamentali, che erano appunto quelle di testimonianza, quella sull'istruzione religiosa nella scuola, quella sul rifiuto di una tutela specifica del sentimento religioso, che sono state introdotte appunto con forti dichiarazioni che volevano essere testimonianze, sono state mantenute anche dalle altre confessioni religiose. E quando il contenuto è così alto, anche l'interlocutore statale riesce ad esprimere un contenuto alto. Io voglio ricordare soltanto due, appunto, questo scambio di dichiarazioni forti che avviene all'interno della nostra intesa e di quelle anche a seguire analogamente rispetto proprio all'istruzione religiosa nella scuola pubblica, laddove la tavola valdese, appunto il senso della testimonianza, ci volle dichiarare di non volere svolgere alcun insegnamento di catechesi o dottrina religiosa ed alcuna pratica di culto, essendo convinta che l'educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventù sono di specifica competenza delle famiglie e delle chiese anziché dello Stato. Forte dichiarazione che ricorda uno dei principi dei caposaldi del nostro modo di intendere che cos'è una scuola pubblica e che cos'è la laicità della scuola pubblica, ma qui risponde lo Stato, sentite, con una dichiarazione importante. Lo Stato risponde affermando che allo scopo di garantire che la scuola pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile, aperto all'apporto di tutte le componenti della società, assicura anche alle chiese valdesi e metodiste il diritto di intervenire per rispondere a richieste in ordine allo studio del fatto religioso, su un piano di gratuità e con oneri a carico della confessione religiosa. Scuola pubblica, centro di promozione culturale, sociale e civile, aperto all'apporto di tutte le componenti della società. Poche migliori definizioni potrebbero essere migliori di che cosa sia una scuola pubblica, oggi non so se le autorità statali sarebbero state in grado di esprimere così bene il senso di che cosa sia la scuola pubblica, è aperta all'apporto di tutte le componenti della società, ecco io credo che anche questo sia il segno che quando il confronto è aperto, quando il confronto è onesto, quando il confronto è alto, fondato sulla nobiltà dei principi, tutti gli interlocutori migliorano e quindi credo che anche questa bella risposta che alla dichiarazione della tavola valdese è seguita sia il frutto della bellezza del confronto che è stato reso possibile dall'attuazione dell'articolotto della Costituzione. Ecco quindi è bello ricordare credo questa pagina importante non soltanto per la vita delle chiese valdesi e metodiste che hanno avuto effettivamente appunto la possibilità di sottrarsi ad alcune normative repressive, di vivere in un quadro più rispettoso dei diritti di libertà fondamentali, senza dimenticare che erano i primi ma si voleva che vi arrivassero tutti, ma che è credo una bella pagina, una pagina importante di svolta per la vita democratica del nostro Paese. Quindi spero che non saremo gli unici a ricordarci di questo anniversario e che ci saranno altre occasioni per poter ricordare l'importanza di questa svolta all'interno della politica del nostro Paese. Grazie.